Il mio saluto di pace e bene raggiunga le vostre case. Oggi 15 di febbraio la Chiesa ci fa celebrare la memoria di San Sigfrido. È un missionario cristiano, nasce in Inghilterra nel X secolo, verso il 995 è un missionario che va verso le terre che oggi possiamo individuare nelle zone della Norvegia, della Svezia, per evangelizzare. Sono molti. Forse ci sembrerà e ci è poco conosciuto questa modalità. Ma durante questi secoli, almeno dal VII secolo, VIII secolo fino al X secolo, sono molti i missionari che partono dall'Inghilterra verso il continente europeo, proprio per rievangelizzare. San Sigfrido è uno di questi. E come tutti gli evangelizzatori ha a cuore quello di portare l'annuncio di Cristo e la sua presenza. E come tanti, come molti cristiani, subirà il martirio in terra di Svezia, insieme ad altri compagni, insieme ad altri missionari che stavano portando la buona novella, il Vangelo di Cristo. Pace e bene. Grazie a tutti.